Non lo sai bene, è un'altra cosa. Noi ci fanno solo nelle partite e nelleหァse. Te ne ricordo perché te le voi? Ti chiesti per i colli? Si vuoi cambiarla? Sicura, ti vestiti con l'ostrazione. Ti immagino il talento. Noi, è delle camera che vuoi fare. Ascoltami, che c'è non scelgo. tu stesso adesso vigina i giorni non lo contate 1 2 3 5 6 7 8 9 10 10 11 13 14 15 16 17 19 20 20 20 20 20 20 20 21 20 21 21 22 22 23 23 24 25 25 Come stai? Il fatto che la gente deve anche dare gli altri spazi si aumentano il loro potenziale, si deve anche fare una condizione per una scuola che poi sta facendo un ciclo. Contrattutto, la trasferizione, diciamo che i giorni che arrivavano per si farei a scuolare, Cassa, respe già qualche anno per il buon anno. E noi vediamo esattato l'unico, diciamo i cosiddetti non titolari quando vanno a scuola. Basta Cassa, se no poi tu mi stai giocando e non dormi più stanotte. Ecco.